Un caro saluto a tutti. Parliamo adesso del pianeta Marte. Secondo me è un pianeta molto importante all'interno del tema perché è il contatto aggressivo con il mondo esterno. Quindi come io mi avvicino al mondo esterno, come io reagisco, come io desidero qualcosa. L'affermazione vuol dire anche la forza, il lavoro, la capacità di impormi, la capacità di non imporsi addirittura se avessi un Marte non ben messo. La mia virilità, la violenza, l'impulsività, l'aggressività. Marte vuol dire anche la muscolatura, lo sport, come io vivo le automobili, gli incidenti. Un Marte leso vuol dire tutto opposto, quadrato, sono molto favorevole ai piccoli incidenti. Quindi la posizione di Marte dice tantissimo in un tema e addirittura potrei avere un sole smagliante, una grande fortuna, ma se ho un Marte leso, il mio lavoro sarà sempre precario. Non riuscirò mai veramente ad impormi e quindi avrò delle grandi frustrazioni. Viceversa un bellissimo Marte, ad esempio un Marte in toro, che vuol dire che resisto al di là di tutto, potrebbe dare dei successi anche se ho, viceversa, un sole leso oppure se non ho una grande fortuna. Ci sentiamo la prossima volta, un caro saluto. Grazie a tutti.